Il secondo Pinocchio Restaurant, aperto recentemente a Temple Bar, Dublino, ha ospitato stasera il 12 aprile 2016, una serata dedicata all'apertura ufficiale del ristorante e alla presentazione dell'albergo diffuso Borgo Tufi nel Molise, regione di origine di Maurizio Mastrangelo che ce ne ha parlato. Stasera ospitiamo un progetto molto interessante, si tratta dell'albergo diffuso Borgo Tufi, è un albergo nato a Castel del Giudice in Alto Molise, promosso dall'amministrazione comunale grazie anche a due imprenditori, D'Andrea e Ricci, che hanno ristrutturato 25 case adibite ad albergo, costruendo una reception centrale con una spa, quindi una wellness interna, e stasera la presentano, inaugurata all'inizio di gennaio, la presentiamo qui a Dublino perché abbiamo costruito un itinerario turistico molto interessante sull'Alto Molise, facendo base appunto sull'albergo diffuso di Borgo Tufi. Stasera è anche l'occasione naturalmente per inaugurare, quasi ufficialmente abbiamo già aperto da circa un mese, il nostro secondo ristorante Pinocchio, Temple Bar, e vogliamo invitare tutti quanti a venirci a trovare, io e Marco siamo molto contenti di poter dare l'ospitalità che hanno sempre trovato da ormai da circa 8 anni a Ranelag, anche qui al centro a Dublino. Auguri eh? Grazie Nel corso della serata presenti l'ambasciatore italiano e il sindaco di Castel del Giudice è stata offerta una cena con prodotti molisani. Siamo solo 300.000 persone e ora in questa piccola sala, ci sono molti di loro in Dublino e una grande concentrazione di molisani persone qui stanno in questa sala. Questo progetto che stiamo promuovendo è Borgo Tufi, è un nuovo progetto, è l'albergo diffuso e come si può esprimere meglio. Prima di tutto, io... Buonasera e benvenuti a tutti, soprattutto ai nostri amici molisani. Sono sicuro che tutti capiscono l'italiano. Grazie per quanto? Grazie a tutti. Grazie a tutti e Marco e i buoni, Cook e sono le migliori ambassasi per il regione in Allianz. E lo hanno fatto dopo un'altro anni èując davvero fantastico. Molise è una delle otte piccole regioni in Italia, ma lei è un caro di stare lì, e se è molto piccolo, puoi anche do a visitare. Ha eccellente prodotti, ha eccellente prodotti, ha molto, 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 molto. Io sono l'ambassista di Italia, quindi ho, ovviamente, per promuovere il nostro paese. Ma, come si dice, Pinocchio No. 2, qui in Temple Bar, ho sicuro che sia un grande successo. Io ero qui per l'opera. Il saluto particolare dell'ambasciatore italiano che ci honora la sua presenza e siamo lieti valori sui presenza. Buongiorno a tutti! Abbiamo pensato che eravamo a dormire! Grazie a tutti per venire, e grazie a Maurizio e l'ambassadore. Castelvergione, c'è un piccolissimo uomo. Siamo da una città molto piccola in Maurizia, con 300 abitanti. 300 abitanti. 300 abitanti in regionale. 300 abitanti in regionale. Comunque è molto piccolo. Però, in questi anni, ha messo in campo una serie di iniziative. È una piccola piazza, ma stiamo facendo molto per non farlo morire, comunque. Queste iniziative sono state messe in campo per evitare che il paese si spopolasse completamente. e quindi... Grazie. Grazie. Grazie.